Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Segui La7 che esplosa sia pesante, io faccio riascoltare questo audio di cui ho parlato poco fa, sentiamo. Il segretario di Stato ha deciso di intervenire, ma non dicendo a votiva poi l'euro e mezzo, si è rivolto a chi? A lui essendo esperto del carcere, perché fai qui al cappellano, al riformatorio e fa il carcere, si è rivolto ai cappellani del carcere. I cappellani del carcere uno era Calabrese e l'altro un furbacchione, un certo Cuvince, un certo Padre Pietro, hanno fatto altro che chiamare De Petise e gli hanno detto sta succedendo questo, se puoi dare una mano, punto, adesso sono tutte cazzate. Ma io gli ho detto cose vere, ma le cose vere che non si sono andato pubblicate, perché nemmeno un c***o. Io ripeto, il comandante che era compare sul partito del generale dei sismi, mi hanno portato a pranzo a Fiucci, hanno tentato, rilessi un po' non dice come stanno le cose, gli ho detto senti, Nando, sei chiamato questo, io ho detto Nando, che ti dico? Ma se sapete la verità, ma che c'è fare? Che c'è fare? Niente. L'ente alla gente è morta, come la provi, una cosa del genere. Decide non proprio per i danni. E quello sicuramente. Ma che ha capito? Non è. Io quando parlai con Nando a Fiucci e di Sidi, non hai capito. La gente trasferisce, con me mi ammazza, mi lascia perdere. Giovanni, sono accuse pesantissime, noi abbiamo coperto con i bip, diciamo, i passaggi più, come dicevo prima, disturbanti. È un audio che chiama in causa un ex pontefice, Giovanni Paolo II, oggi santo. E lo chiama in causa, in qualche modo, accusandolo di pedofilia e di responsabilità nella sparizione, nella scomparsa di Emanuele Orlandi. Questo ha provocato la prima crisi. Una crisi inevitabile. Quando ci sono casi, diciamo, così complessi, che rimangono chiusi per così tanto, persino voci come queste vengono in qualche modo elaborate dal sistema. È difficile, no? Credere a una voce del genere data da un delinquente, buttata così, come al bar, ve lo dico io. Già in genere voci come queste vanno ridotte da 10 a 1, ma figuriamoci in questo contesto. Qual è il problema di questo audio? Non quello che dice, perché immagino che se si arriverà a indagare in maniera seria su una pista che porti alla pedofilia, ricordiamo, sono fondamentalmente tre le piste, no? Il terrorismo, la pista finanziaria e quella della pedofilia. La finanziaria passa tra le centrale. Il posto che la pista del terrorismo, diciamo, è stata sostanzialmente scartata, sono rimaste in piedi le altre due, che non sono, diciamo, possono stare insieme tranquillamente. E anche l'idea che si è scartata ieri da noi, invece, ad esempio, nello scavo, ci sono elementi in cui ancora bisogna dare attenzione in quella pista. Io sono sicuro che se anche si perseguisse la pista della pedofilia non si passerebbe per una, diciamo, sbrasonata da barra, no? Sono temi così importanti che immagino che gli inquirenti passerebbero attraverso altre piste, sicuramente questa persona va sentita. Il problema è che queste voci diventano rilevanti quando le cose sono chiuse troppo, no? Sono passati 40 anni, questo è un caso, noi non ci siamo mai occupati di cronaca di martedì, ma questa non è cronaca. Questo è un caso che ha accompagnato la nostra formazione. Io sono del dicembre 67, Emanuele a gennaio 68. C'è una generazione che si è formata con questo caso. Siamo una generazione... E che si è anche appassionata, eh? Si è appassionata anche perché... Al destino di questa ragazza. Sai, il periodo, diciamo, della palude romana, della procura che nasconde, della politica... Porto delle medie. Si, della politica e della chiesa che in qualche misura si stringono spesso in, diciamo, in manovre insopportabili. Noi ce ne siamo liberati. Noi siamo quelli degli anni 80, degli anni 90. Noi abbiamo vissuto tangentopoli. Rimane questo caso. Rimane questo caso. Come a sbeffeggiare? Questo non lo saprete mai. Allora, diciamo, questo caso è passato attraverso tre papi, no? Molto diversi tra loro. Certo. Voitila che ha fronteggiato il comunismo, Ratzinger così sofisticato, così delicato però anche, no? Che arriva a un atto così coraggioso come le dimissioni e poi c'è il papa rivoluzionario, quello dell'apertura, quello del popolo. Questa è l'occasione per cui, se ci si muove con intelligenza, se si evitano degli incidenti come, diciamo, il dar credito per partito preso a una voce del genere, che è una voce registrata, ma da bar, si sentono le stoviglie sotto, no? Allora non si può andare appresso a ogni voce. Si può però ragionare senza avere paura di nulla, anche su una pista della pedofilia. C'è un fatto, diciamo, che non dico che dà credito a questo audio, ma che comunque collega questo audio a quello che è accaduto. E cioè, chi parla è un ex sodale di Enrico De Pedis e noi ci ritroviamo Enrico De Pedis sepolto nella Basilica di Santa Pollinare, che è un po' la prova provata, diciamo, del fatto che le impronte della banda della Magliana su questa vicenda non sono così confuse. E' quello che dicevamo, no? Quando tu tieni chiusa, assume rilevanza. Perché assume rilevanza? Perché appunto è un sodale della persona che indubbiamente è coinvolta in questo caso. Certo. E in questo caso, che poi tu saprai sicuramente spiegare meglio, io te lo dico quello che colpisce. Colpisce una cosa. La domanda a cui rispondere è una. Perché hanno scelto lei? Se uno si domanda perché hanno scelto Emanuele Orlandi, perché è scomparso Emanuele Orlandi, dalla risale a mille cose. Allora se è stata scelta lei perché era una cittadina vaticana, se è stata scelta lei perché era una ragazza magari vittima di quello che era, diciamo, era un fatto di quegli anni. Io mi ricordo, io ero a Roma e in quegli anni si parlava della Tratta delle Bianche, di un negozio dove scomparivano le ragazze. Erano le famose leggende metropolitane. Erano le leggende metropolitane che comunque erano nell'immaginario. Quindi pure quel fatto colpì. Allora se si scopre perché è stata scelta lei, perché la banda della Magliana probabilmente è stata incaricata di far scomparire lei, allora si arriva alla chiave di soluzione. Sicuramente il fatto che uno della banda della Magliana parli, nel momento in cui non c'è chiarezza, diventa, diceva forse bene quel vescovo, ottiene credito perché uno della banda della Magliana, questo dovrebbe levargli credito. Purtroppo non lo sappiamo perché è talmente oscura la materia che bisognerà andare avanti con coraggio e con chiarezza. C'è una cosa interessante, il promotore di giustizia, che sarebbe praticamente il sostituto procuratore che sta indagando in questo momento dall'interno del Vaticano, su questi 40 anni di silenzi, di carte polverose e quant'altro, ha dato un'intervista a Rete Lazio, se non sbaglio, ieri, nella quale dice delle cose non da poco. Purtroppo non ci ha concesso l'autorizzazione a mandare in onda l'audio di quello che dice, ma io ho il testo. E qualcosa te la voglio citare perché secondo me ci possiamo riflettere. Dunque, dice Alessandro Didi, è un lavoro complicato perché purtroppo sono passati tanti anni, non è facile raccogliere reperti di 40 anni fa. E vabbè, questo lo sappiamo. Soprattutto bisogna mettere a sistema tantissimi pezzi di storia che in questi anni si sono intrecciati sicuramente anche attraverso una serie di opere di depistaggio. Per cui dipanare questa matassa, riuscire a trovare il bandolo giusto, non farsi condizionare da chi ha cercato in tutti questi anni di offuscare la verità, non sarà facile. Abbiamo fatto, e qui vengono due punti importanti, abbiamo fatto un lavoro enorme, stiamo parlando solo di tre mesi d'indagine, spero che un giorno se ne potrà dare completa visibilità di studio, di carte che credo che nessuno abbia mai potuto esaminare. Per cui sappiamo tutto quello che potevamo accertare, lo abbiamo accertato e sappiamo delle cose anche inedite che spero che appunto un giorno si potranno svelare. Poi aggiunge, ho preso carte, come ho avuto modo di dire, impolverate, ma non in maniera metaforica. Ci sono dentro quello stato che è piccolissimo, cioè la città del Vaticano, mezzo chilometro quadrato, il nostro compito è stato quello di ricercare qualunque foglio di carta, anche il più piccolo, che in qualche modo avesse attinenza con la famiglia Orlandi, con Emanuela Orlandi e quindi abbiamo raccolto tutto. Lui dice una cosa importantissima, che contraddice quello che fino adesso si è raccontato. Cioè non c'è nulla, non c'è mai stata un'inchiesta, nessuno se n'è mai occupato dentro il Vaticano. Lui dice abbiamo trovato un sacco di roba. Quindi è un primo passaggio non da poco. Questo caso va visto da fuori. Non è un caso che sia ripartita molto forte la richiesta di giustizia e di verità nel momento in cui di questo caso si sono occupati gli americani. Cioè un giornalista che ha un tratto, che non conosce il nostro mondo, non conosce la realtà italiana che si è sviluppata in 40 anni, arriva, vede e dice ma scusate ci sono tante cose che non tornano. Me le spiegate. E le mette in fila. E le mette in fila. Allora mettendoli in fila è ovvio che il Vaticano se n'è occupato, ma così deve essere. Non è neanche drammatico che non si sappia che se n'è occupato, perché anche noi abbiamo i servizi segreti. Ci sono delle indagini, delle carte, delle inchieste che anche noi non conosciamo sul nostro paese. È impensabile che non lo abbia fatto, insomma. Ogni democrazia comunque si deve, parlo dell'Italia, non di altri stati, ma ogni democrazia si deve tutelare anche in qualche modo. È normale che ci siano dei segreti di Stato. È eccezionale che si decida di andarli a vedere. Allora in questa vicenda, secondo me, se ne esce, se non ci si concentra su chi ha nascosto, se non ci si concentra su chi non ha detto, ma se ci si concentra su cosa è successo. Perché sono troppe le persone che sanno, che hanno nascosto, che hanno depistato, che hanno paura di quella che potrebbe essere una verità che loro neanche conoscono magari. Allora bisogna concentrarsi semplicemente, come arrivando da fuori, come nei gialli. Arriva il detective che non conosce la famiglia, non conosce la società, e inizia a guardare tutti solo per quello che sono. In quel momento forse si può arrivare a una qualche verità, senza cavalcare ogni spaccato che esce fuori. Quindi mi viene da dire anche con grande freddezza, perché altrimenti è molto facile innamorarsi di una frase, di un'accusa, e prenderla diciamo come paradigma del tutto. Vedi, la prima crisi è stata scatenata da quest'audio, che tu hai fatto bene a rimandare, perché è un dato di fatto che non è che devono conoscere solo gli addetti ai lavori. Ma è una parte, diciamo, del percorso. Va inquadrato. Sì. Allora, se uno decide di cavalcare ogni audio, se uno decide di cavalcare ogni piccolo spaccato di verità, è stata portata in Sardegna, è stata coinvolta da una persona in un discorso, in quel momento tu cavarchi... Allora, è stata tenuta in ostaggio per chissà quanti anni, perché persino questo si è detto. All'estero, oppure è stata mantenuta dalla Chiesa. Se uno decide di cavalcare, l'ultima voce con cui più ha empatia non se ne esce. Serve un tranquillo, serio percorso di indagine e, diciamo, che magari potrebbe anche rimettere in gioco la nostra magistratura. Nel momento in cui sia il Vaticano, sia il nostro Parlamento si occupano di questo caso, io spero che ne nasca, diciamo, che uno non abbia paura dell'altro, ma che anzi... Una sinergia positiva, sì. Che uno alimenti l'altro. Le volontà ci sono. La commissione d'inchiesta è votata all'unanimità. Il Papa, ha detto indagate, Papa Francesco, che è un Papa che ha giocato nella sua credibilità sull'apertura in tanti campi. La trasparenza, certo. Trasparenza e apertura, apertura anche sul mondo dei diritti civili, sul mondo che lo circonda. Allora, è un'occasione storica, bisogna giocarsela con grande accortezza, con grande intelligenza, andare col cesello e non col martello. Ed è immaginabile che non porrà alcun veto, diciamo, alla testimonianza, anche di prelati importanti, che ancora sono vivi, che possono dare un contributo, no? A spiegare, a raccontare. Immagino che una volta che si decide di aprire una cosa, si apre. Aprirla per poi tenerla chiusa? No. Non è in Francesca. Cioè, almeno, io lo osservo da giornalista, non mi sembra che abbia fatto retromarce, non mi sembra che abbia cambiato linea rispetto all'apertura, anche perché io sono convinto che molti in Vaticano siano convinti di non entrarci nulla in questo caso. e allora l'idea di aprire è la migliore cosa per evitare che abbiano, diciamo, che abbiano rilevanza anche dei miasmi che invece sarebbe bene eliminare. Ma infatti, la coincidenza dell'apertura dell'inchiesta in Vaticano e della imminente apertura dell'inchiesta da parte della Commissione parlamentare è importantissima, perché questo è proprio un classico caso che al 50% si svolge dentro il Vaticano e al 50% fuori. E quindi mettere insieme tutto anche quello che noi per esempio non conosciamo, che hanno fatto i servizi segreti italiani, è fondamentale per la ricostruzione dello scenario. Servirebbe un magistrato, c'è poco da fare. Cioè, queste sono le indagini che deve condurre la magistratura. Purtroppo, 40 anni, vuol dire 40 anni di paese che cambia, di persone che sono interessate ai fatti e persone che sono interessate che questi fatti non escono fuori, perché è evidente che questo caso, diciamo, è il, almeno, l'idea che ci si fa guardando le carte di questo caso, è il caso di un ricatto. Perché si sceglie lei per ricattare e chi viene ricattato? Queste due cose non si sanno. Certo. si sanno tutte le cose intorno, ma non si sanno questi due elementi fondamentali. Allora, su questi due elementi fondamentali bisogna andare dritti come un detective. C'è poco da fare. un'altra cosa, secondo me, importante riguardo alla freddezza con cui affrontare questo caso è che è inevitabile che si toccheranno persone e sensibilità e anche nervi scoperti, se vogliamo. però mi pare che la scelta di Papa Francesco vada in maniera molto aperta anche affrontando questo rischio perché comunque la storia di Emanuela ha toccato un po' i cattolici di tutto il mondo anche per la serie Vatican Guer che è stata molto vista. E diciamo, la Chiesa evidentemente non sopportava più il male che faceva il silenzio che era stato scelto come strategia. Beh, diciamo il silenzio fa sempre male, no? Conviene che gli scandali succedano, conviene perché l'alternativa è peggio. E c'è una cosa da dire, non è una vicenda che si risolve con la forza e col coraggio, solo. Serve forza, coraggio, consapevolezza, rispetto e raffinatezza perché si toccano degli elementi immateriali che non sono irrilevanti anche da un punto di vista pratico. tu non puoi diciamo lanciare un sasso che può far male a tante persone che credono ad esempio in un santo. Tu devi essere consapevole della rilevanza senza nascondere, senza diciamo fare operazioni di bon ton, ma in ogni caso ogni azione che deve essere portata avanti in questo campo deve essere portata avanti con un grande intelligenza e rispetto del sentimento delle persone. quando si tocca la fede si tocca l'identità, si tocca la profonda convinzione di una persona. Allora bisogna andare avanti perché bisogna andare avanti perché l'esigenza di giustizia non è solo del Vaticano è della famiglia Orlandi ed è di tutti noi perché io ho l'età che spero abbia o avrebbe Emanuela e noi siamo cresciuti io ho una sorella di pochi anni più grande io mi ricordo in famiglia cosa si diceva questa storia ci ha formato questa storia ha formato un paese e allora una storia che forma deve anche avere un messaggio di base il messaggio di base deve essere che alla giustizia e alla verità si arriva ma alla giustizia e alla verità non si ottengono a capocciate si ottengono col bisturi si ottengono col rispetto si ottengono con la dolcezza e con l'apertura però visto che parlavi di storia è storica anche per il Vaticano la decisione di aprirsi in questo modo non si è mai vista diciamo su una questione oscura e ce ne sono state all'interno della città del Vaticano un'apertura così insomma è una decisione storica che bisogna premiare forse percorrendo l'indagine con questa attenzione tra l'altro è storica anche la commissione inchiesta del Parlamento abbiamo diciamo si stanno muovendo soggetti che questa volta si è sempre detto che la magistratura suppliva la politica suppliva tante cose questa volta stanno supplendo a una mancanza della magistratura questo doveva dovevano dircelo i giudici cosa è successo in 40 anni sono cambiate tante cose in Italia è cambiata la politica è cambiata la magistratura è cambiata è cambiato il Vaticano è cambiata la finalità della diciamo dentro di noi della politica della religione della cultura che abbiamo della cultura politica adesso in questo momento questo c'è di questo dobbiamo approfittare l'importante è non sprecarlo il primo scontro che c'è stato in seguito a quest'audio che è mandato diciamo deve essere di monito attenti perché tutto si può fare tutto si può comprendere nulla si deve nascondere ma tutto va fatto nel rispetto degli altri secondo te dietro questa storia c'è una verità inconfessabile o un segreto inconfessabile di inconfessabile non c'è nulla ce lo insegna la religione cattolica quindi diciamo sicuramente c'è qualcosa di molto pesante c'è da sperare che non sia qualcosa di così pesante che lo scopriremo solo nei libri di storia di 300 anni c'è da sperare che sia qualcosa diciamo anzi c'è da sperare che quale che sia la cosa che c'è dietro abbiamo un paese pronto a sostenerla a comprenderla e elaborarla che è anche il compito che ha la Chiesa di fronte a questa vicenda ma io ti devo dire che tra questi due soggetti io punto molto sul Parlamento noi siamo cittadini italiani abbiamo deciso di scoprire cosa è successo a una ragazza che ha segnato la vita del nostro paese è una prova per il Parlamento più che per il Vaticano il Parlamento ha la fortuna di avere un Vaticano nelle mani di un Papa che ha deciso di aprire non solo in questo tema ma su tantissimi temi spero che il Parlamento ne approfitti grazie a Giovanni Flores ma la safetta può darsi che continui può essere o magari chiedi il caso stasera grazie buonasera Alessandro Ambrosini buonasera mi sente? buonasera a tutti buonasera Ambrosini sì sì ce lo sento bene lei ha questo blog buonasera